Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa piccola recensione di Bagi. Che cos'è Bagi? È un desktop environment nato in seno al Solus Project, Solus la distribuzione fatta da Ikei, una distribuzione Linux incentrata su Bagi, questo desktop environment, tutto sviluppato in casa da questo sviluppatore geniale, fatemelo dire perché è riuscito a realizzare un desktop environment con pochissimi elementi però semplice, veloce e anche gradevole da vedere. Dicevamo è basata sulle GTK, fa praticamente molte applicazioni quindi in comune con Gnome, File Manager e tutto il resto, quindi ha tutta l'applicazione che voi già conoscete si concentra semplicemente ad offrire un desktop, un layout di desktop particolare. Andiamo a vedere come funziona questo desktop environment. Ho deciso di provarlo su Arc Linux, o meglio su Mangiaro, perché la distribuzione Solus non funziona correttamente sul mio computer, non riesco ad avviare correttamente, soliti problemi di driver, Nvidia e quant'altro, quindi non ho potuto realizzare un video utilizzando Solus. Come potete vedere l'aspetto di questo desktop environment è semplicissimo. Abbiamo un pannello superiore, abbiamo un lanciatore applicazioni, veloce, essenziale, mostra tutte quante le categorie sulla sinistra, sulla destra abbiamo le sottocategorie, poi quando andiamo ad esempio a spostarsi su tutto, la ricerca è velocissima, andiamo qui, come potete vedere la ricerca è velocissima, non badate i microscatti che vedete adesso, che dipendono dal software che sto utilizzando per registrare questa recensione, quindi che ha problemi con i driver Nvidia. Chi non ha problemi con i driver Nvidia al giorno d'oggi, alzasse la mano perché proprio... vabbè chiusa parentesi. Come potete vedere abbiamo le animazioni sono molto semplici, c'è una piccola animazione di minimizzazione che è un po' come viene utilizzata anche su Gnome, tutte quante le applicazioni che noi andiamo a lanciare una volta minimizzate che appaiono in questa bar, possiamo anche pinnarle in modo da averle sempre, quindi che ne so, se adesso andiamo a chiudere i file manager, come potete vedere è stato pinnato quindi rimane lì e possiamo anche toglierlo. Sulla destra abbiamo delle informazioni sull'ora e la data, abbiamo un pulsante che serve per accedere a quest'area di notifica, diciamo così, dove abbiamo il calendario in forma estesa, abbiamo le informazioni sull'audio, sull'uscita audio e abbiamo un centro notifiche, cliccando sulle notifiche è possibile vedere le notifiche delle varie applicazioni, in questo caso non c'è nessuna notifica, perchè non ho fatto nessuna operazione. Cliccando poi sull'icconcina qui è possibile andare nelle impostazioni di sistema di Gnome in questo caso, perchè ho utilizzato Gnome come base per questa distro. Clicchiamo qui e chiudiamo, andiamo a vedere gli altri elementi di Bagi. Nelle impostazioni che cosa è possibile fare? E' possibile impostare il tema scuro o il tema chiaro, è possibile scegliere il tipo di tema, il tipo di icona, è possibile poi andare nelle impostazioni di pannello e agire sulla grandezza della barra, della barra superiore, del pannello superiore. E' possibile personalizzare la posizione di default, l'abbiamo posizionata nella parte superiore, però come potete vedere possiamo posizionare in basso in modo da avere un aspetto alla Windows. Onestamente questi devono essere i trucchi che preferisco, perchè mi piace di più minimizzare tutto in basso. non lo so, lo trovo più comodo dal punto di vista produttivo per quanto si lavora. In altre impostazioni abbiamo i vari applet di base che convongono Bagi, in menu che è possibile personalizzare ulteriormente attivando la modalità compatta, eccola qui, li mettiamo in modalità estesa che è più carino, almeno ha più senso. Poi abbiamo il task, qui è possibile scegliere di visualizzare icone piccole o icone grandi. Questo è un pulsante che ho aggiunto io in mostra desktop. E poi abbiamo la 3D sistema, l'orologio e basta. Quindi pochissime impostazioni, come potete vedere. C'è comunque la possibilità, che ne so, di inserire un pannello superiore per chi vuole un sistema un po' diverso, quindi lo possiamo andare a modificare, aggiungere qualche altra cosa, non lo so, se volete aggiungerci qualche altro applet sopra. Quindi impostare con una modalità la Gnome 2, tanto per farci capire. Come potete vedere, poche impostazioni ma buone. Le essenziali per poter essere utilizzato, per poter essere produttivi alla fine. Non ci sono fronzoli, non c'è niente di superfluo. Cioè il minimo essenziale per poter gestire un ambiente desktop e viene fatto in maniera egregia. Vedremo successivamente come si evolverà questo desktop environment però da par mio promette davvero bene perché è appunto, come potete vedere, semplice e immediato. E come dovrebbe veramente essere un desktop environment classico. io torno sempre sul mio cuccio. E anche come sarebbe dovuta essere, a mio avviso, la modalità, diciamo così, classica di Gnome Shell. Voi avete visto la modalità classica di Gnome Shell che è stata aggiunta successivamente è una specie di accrocchio perché praticamente ho tante estensioni che vengono buttate qui per scimmiottare un desktop classico. però alcune festivari rimangono, tipo la gestione degli spazi virtuali che appaiono in quella... diciamo così, vengono limitati a quattro però appaiono sempre con Lot Corner e compagnia bello. Cioè, secondo me avrebbero dovuto puntare a fare una cosa del genere per la sessione classica. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa a proposito di spazi virtuali, me ne ero dimenticato, potassi che interessa a qualcuno. Nel pannello è possibile comunque inserire altri, diciamo così, applet. E c'è anche l'applet desktop virtuali. Andiamo ad aggiungere e vi faccio vedere come funziona. Perché prima mi sono leggermente dimenticato. Dove sta? Ecco, qui lo spostiamo giù in una maniera... in un punto che magari si vede di più. No, ho spostato quello che ho sbagliato. Dove sta? Ecco, scusate. Eccoli qua. Quindi... Scusate. Ecco i desktop virtuali, che ne so. Diciamo questo. Ecco. Semplice. Anche l'applet desktop virtuali è semplice, è immediato, è possibile lanciarlo così. AltTab funziona anche in maniera rapida. Ehm... Funziona anche il pulsante per... Il pulsante al via di Windows per lanciare il menu applicazioni. Voi ho detto. A me piace, piace moltissimo. Perché è semplice, elegante, funzionale. Ehm... Con il tema... Con il tema che state vedendo, il tema Arc... E si sposa il pennello. Ehm... Bello. Mi piace, mi piace. Ehm... Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo desktop environment. Ehm... Buonanità e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo con un prossimo video. Bye bye.